In fondo lo scafista è l'anello debole della catena. Laura Boldrini ci ha sorpreso molte volte per le sue affermazioni, che spesso hanno dimostrato quanto l'ex presidente della Camera viva probabilmente su Marte, che casualmente è il pianeta rosso. Sostanzialmente l'onorevole del PD è riuscito in commissione a giustificare il comportamento di questi delinquenti, balordi, trafficanti umani affiliati alle mafie. Una cosa incredibile, incredibile! Un tema per cui, ve lo ricordo, il segretario della Lega, Matteo Salvini, allora il ministro d'interno è sotto processo e il 20 dicembre chiuderà questa partita con una probabile condanna. Fino a sei anni di galera per sequestro di persone. Ecco, le due facce della medaglia, Salvini e Boldrini. Ora, certe affermazioni non sono accettabili neanche dette al bar. Figurati dall'ex presidente della Camera in una sede istituzionale come la commissione della Camera dei Diputati. Quindi, a prescindere da quello che si pensa, giustificare trafficanti uomini delinquenti è un atto eversivo. Tu cosa ne pensi?